Buon pomeriggio, ictus cerebrale, l'argomento di cui si occupa oggi pronto dottore. In studio con noi il professor Francesco Federico, responsabile della Stroke Unit del Policlinico di Bari, che saluto subito, ben trovato professore, ricordo ai nostri telespettatori come sempre in apertura di puntata il numero verde gratuito a cui potete chiamare per le vostre domande al professore 800-098-729, chiamateci, intanto alcune curiosità, mie curiosità su questo, la possiamo chiamare malattia? Perché è un evento effettivamente, non è una patologia vera e propria l'ictus. Chiaramente è un evento che corrisponde a una serie di patologie, a una malattia. Certo, infatti era una delle mie curiosità. Intanto pare che sia frequente, ovviamente causa di morte, che colpisca soprattutto gli over 65, non è detto perché pare che possa colpire anche i più giovani. Sono degli ictus giovanili e anche degli ictus pediatrici, quindi con minore frequenza però colpiscono anche, anzi vi è un'aumentata incidenza degli ictus giovanili. E si può ascrivere a qualcosa l'ictus giovanile? Sì, si può ascrivere principalmente a dei problemi di ordine aterosclerotico che sono già più avanzati nella fase iniziale. Meglio ancora, cioè ci sono dei processi anche infiammatori che possono colpire anche i giovani e innescare dei problemi aterosclerotici. E poi c'è una maggiore attenzione, quindi ecco perché si riconoscono meglio anche degli eventi piccoli, diciamo, nei giovani. Come per esempio dei traumi, dei traumi anche piccoli alla carotide possono portare degli eventi o, come nel caso per esempio di Cassano, dei piccoli, dei piccoli malformazioni che con le tecniche attuali riusciamo più ad evidenziare. E quindi diciamo che molto verosimilmente erano eventi mal conosciuti e mal studiati. Naturalmente poi con una maggiore incidenza si studiano anche di più. Abbiamo già una telefonata? Buon pomeriggio! Sì, buon pomeriggio. Ci dica. Volevo chiedere al professore se, siccome ho avuto mio padre che ha avuto l'ictus, quindi diciamo, mi sono informato un poco. Volevo chiedere, quando uno si sente male e storce la bocca, oppure fa spuglia nel parlare, in questo, diciamo, questo sintomo, è sicuro che questo è un sintomo di ictus? Oppure questo sintomo si può avere anche in altre patologie, come per esempio un trauma cranico? Questo è importantissimo. Veramente grazie per questa domanda. Ho una persona amica che ha questo problema, posso subito chiamare il pronto soccorso? E sono sicuro che è ictus? Lei ha individuato due dei segni più tipici che possono far pensare a un ictus. Un disturbo del linguaggio, anche l'articolazione della parola, una mala articolazione della parola e anche un, lei parlava di storcimento della bocca, un deficit del facciale. Sono due segni importantissimi di allarme per cui è indicato un intervento al pronto soccorso. Ecco, questo è importante, quello che ci ha chiesto il nostro telespettatore. Si ricollega ad un'altra cosa che avrei voluto chiederle e che le chiedo subito. Se intanto è importante per coloro che assistono a questo evento, quello che devono fare, le prime cose da fare. Qualora invece il soggetto fosse solo in casa, c'è possibilità, come dire, e avesse la fortuna di, come dire, accorgersi, di sospettare che qualcosa non va, che cosa fare per prima cosa? Se è solo è sfortunato, se invece è solo ma riesce ancora ad essere autonomo in qualche maniera, per esempio con un lato di solito il segno più caratteristico. Sono dei segni facili, dei segni banali, però si debbono sapere. Cioè l'indebolimento di una metà del corpo, un disturbo della sensibilità di una metà del corpo. E allora deve chiamare il 118. Ormai l'ictus ha le caratteristiche del codice rosso. Quindi ormai stiamo introducendo per l'ictus il codice rosso, quindi non codici. Ed è un codice proprio ictus. E questi sono degli elementi che deve far portare e non trascurare tempo. Il problema è proprio questo, che molte persone e anche familiari pensino che la situazione passa e quindi aspettano e perdono tempo. In quei momenti insomma la cosa che il tempo è poco e quindi bisogna sfruttarlo al meglio naturalmente. Non è detto che tutti questi eventi possono essere gravi e possono portare a un evento ictale molto importante. Però nel dubbio si deve andare subito e farsi riconoscere. Per quanto riguarda invece il trattamento, la fibrinolisi è un trattamento che solitamente si applica nelle stroke unit come la sua ed è molto efficace, soprattutto nella fase acuta. Perfetto. È così? Sì, è così. Ormai proprio per un decreto legislativo la fibrinolisi si applica solo nelle stroke unit, cioè in tutte quelle parti che hanno delle determinate caratteristiche. Quindi diciamo che è fortunate le città che ce l'hanno la stroke unit. Per fortuna, con un'opera che abbiamo fatto e su cui credo di avere molto partecipato, in Puglia ora ce ne sono quasi nove, otto o nove, quindi diciamo c'è stato fatto un grosso passo in avanti. Sono ancora insufficienti però. E poi anche qui si diceva del tempo. Il problema del tempo è che noi possiamo fare questo trattamento entro tre ore da quell'evento, cioè dal problema facciale, dal problema della forza. In alcune situazioni come per esempio la nostra possiamo portarla a quattro ore e mezzo perché partecipiamo ad uno studio che ci ha permesso di dilatare il tempo, quindi fino a quattro ore e mezzo. Ma oltre questo poi non si può andare perché sarebbe più pericoloso. In tempo e quanto prima è possibile, ecco, non sfruttare il massimo del tempo, ma prima si fa, si è visto, migliori sono i risultati. Tant'è che, diciamo, la percentuale di gravi complicanze sono veramente minime. Però, scusi, le complicanze sono delle emorragie che, se fossero tali, non è che ci importa tanto, delle emorragie fatali e sono intorno però al 2%, quindi diciamo siamo in una situazione molto tranquilla. Insomma le cose si riescono a gestire. Realmente noi abbiamo fatto circa 50 trombolisi e abbiamo avuto due mortalità. Insomma, non è neppure legate strettamente alla trombolisi. Professore, l'ictus può arrivare improvviso e mi spiego meglio. Leggo un po' ovunque che è conseguenza quasi sempre di un'altra malattia, quindi di problemi cardiovascolari, di ipertensione, cioè legato ad una malattia di base. Ma può, a prescindere dalla malattia di base, arrivare improvviso così quando uno meno se lo aspetta e quindi di qui non essere neanche affrontato come si dovrebbe? Guardi, tenga presente che nonostante tutti gli accertamenti possibili che noi riusciamo a fare, non noi diciamo come nostro reparto, ma parlando un pochino dell'atterratura, un 20% di ictus non riusciamo a capire da dove provengono, pur facendo tutto. Molte persone possono non avere delle cause almeno visibili per avere un evento ictale. Tenga presente che quando parliamo di ictus, non soltanto, c'è una porzione anche di un ictus emorragico, di un'emorragia, quindi un aumento improvviso della pressione può portare alla rottura di un vaso o delle malformazioni che uno non sa di avere, possono portare alla rottura di un vaso. E quindi sono queste le condizioni che anche in apparente benessere si può avere in ticti. Insomma c'è una percentuale piccola di fatalità, chiamiamola così, sulla quale nulla si può. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto. Buon pomeriggio. Buongiorno. Pronto? Sì, sì, la sentiamo bene signora. Prego, con la domanda. Pronto, buonasera. 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 Senta, se un soggetto è stato trattato con radioterapia in quella zona, è possibile nell'immediatezza intervenire con quel sistema di cui parlava poc'anzi? No, chi fa un trattamento radiante o ha in atto un trattamento radiante è escluso dalla fibrinolisi. Non lo può fare. Ecco, non lo può fare. Quindi no signora, non si può sottoporre un paziente che è sotto radioterapia con la fibrinolisi? Insieme alla radioterapia che ha per esempio avuto un trauma recente, chi fa degli anticoagulanti, quindi c'è tutta una serie di limitazioni al trattamento. Quindi per poter accedere alla fibrinolisi bisogna avere una serie di requisiti. Esatto, una serie di indicazioni e non avere delle controindicazioni. Il trattamento sostitutivo è la terapia con acido salicidico? Sì, è con aspirina che ancora oggi ha dimostrato una certa efficacia soprattutto nella prevenzione di nuovi eventi. Però il gold standard è sicuramente ormai la trombolisi che quando si fa in tempi rapidi può sciogliere quel trombo, quella occlusione che ha portato la mancanza di sangue a una zona del cervello. Bene, abbiamo professore gli ultimi 15 secondi, a dire la verità non ce li avremmo neppure, ma una sola cosa, com'è in generale, mi rendo conto che cambia da caso a caso, ma com'è in generale la vita di un uomo, di una donna, di un soggetto dopo l'evento ictus? Lei diceva bene, cambia da caso a caso. Tenga presente che circa un 20% è destinato alla istituzionalizzazione. Ancora oggi di chi ha un evento ictale, c'è un 40% che ha dei deficit importanti, c'è un buon 50% che ripiglia e continua ad avere la stessa possibilità di attività della vita quotidiana. Bene, grazie al professor Francesco Federico per essere stato con noi. Vorrei ricordare che l'ictus e la stroke unit sarà uno degli argomenti prossimi di Salve Dottore, il format che vi proponiamo il venerdì. Noi invece ci vediamo con Pronto Dottore ancora una volta domani, parliamo di influenza e lo faremo con il professor Quarto. Grazie per averci seguito e arrivederci a domani. Grazie professore. Grazie a tutti.